Buongiorno, sono Federica Borgini e rappresento l'Associazione Nazionale Macrodattilia Onlus. La decisione di partecipare a questo corso Patti è stata per avere maggiori informazioni, per formarci, perché solo in questo modo si può avere un empowerment dei pazienti, ma anche per poi metterlo a frutto e impegnarsi attivamente nei vari tavoli di lavoro, piuttosto che a livello di istituzioni, per far sì che il ruolo del paziente venga incluso in tutte le parti del percorso, sia dello sviluppo del farmaco, sia poi anche a livello dell'assistenza ai pazienti. Finora il corso si è rivelato molto interessante, la piattaforma è un ottimo modo per approfondire gli argomenti, perché consente a noi pazienti, che ovviamente abbiamo anche un lavoro, un'attività, di poter approcciare gli argomenti nelle tempistiche che ci sono più comode, però poi negli incontri face to face questi argomenti vengono maggiormente approfonditi dagli esperti, che veramente sono stati grandiosi finora, perché sono stati molto disponibili a rispondere alle nostre domande e hanno anche esposto un materiale che è comunque molto complesso in una maniera assolutamente comprensibile per tutti, insomma indipendentemente dal livello che ognuno ha di formazione. Quindi insomma per ora è una cosa molto positiva, e molto positivo è anche il rapporto che si sta instaurando con gli altri discenti, e stiamo facendo molto gruppo, ci stiamo confrontando su varie tematiche che di volta in volta vengono fuori e quindi per ora è un'esperienza molto positiva.